Stiamo andando per il Monte Tranquillo, il tempo sembra buono, sembra, dopo la scaricata di ieri. L'incrocio qui per lo sterrato, però è successo, ragazzi, il tempo non è buono, la tempesta è in arrivo. E quindi rinunciamo al Monte Tranquillo. Rinunciamo al Monte Tranquillo, con grande rammargo. Peccato perché da lì si vedeva il terreno e l'Adriatico, così ci hanno detto. Purtroppo ci dobbiamo fare questo asfalto di merda che io schifo proprio. Eh vabbè, ma l'obiettivo adesso è Villetta Barrea. Barrea, vai! E tutto? Andrà tutto bene. A dopo tempo che purtroppo stiamo trovando il secondo giorno, la tappa al vino. Villetta Barrea, ecco tutto intorno. Stiamo scavallando la montagna, passando da Lazio all'Abruzzo. Queste sono le condizioni. Meteo. A dopo. A Villetta Barrea. Arrivo della nostra seconda tappa. Un po' complicata questa seconda tappa. Un po' sconvolta dal maltempo. E dalle capriole. E dalle capriole. Abbiamo sconvolto il programma. Ma va bene così. Ciao, ragazzi. 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 foto 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 che meraviglia facciami tutto questo grazie a papà 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 vai 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 ma che a me fa vabbè ma qua non mi piace tanto ieri non si no si possiamo siamo arrivati ieri 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 Sì Piacchiamo qua? Ecco il nostro arrivo allo stello Ancora? 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 Ancora?